Sui temi dell'informazione, intervista del nostro caporedattore Filippo Massari al vicepresidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza e senatore del PD Verduci. L'informazione è sempre più globalizzata. In questo contesto, che ruolo può avere l'informazione locale? Sempre più globalizzata, ma sempre più c'è un'importanza dei territori. Sempre più dentro la globalizzazione, la cittadinanza, le persone vogliono un senso di identità legato molto spesso ai territori. Ed è fondamentale l'informazione locale perché serve anche a costruire comunità, a costruire inclusione, integrazione. In un momento in cui le paure molto spesso la fanno da padrona, questo tipo di informazione invece è un collante decisivo per la nostra società. Per questo l'informazione locale di prossimità, il servizio pubblico regionale e territoriale, penso sia fondamentale per il nostro sistema dei media e anche per la nostra società. È possibile contrastare le fake news in rete senza cadere in atteggiamenti sensori? Sì, dobbiamo farlo perché la rete è qualcosa di molto positivo, a patto che però non diventi preda di manipolazioni, di veri e propri falsi, le cosiddette bufale che sono tantissime, che condizionano l'opinione pubblica e che portano ad ingenerare grandi falsi che fanno male alla nostra democrazia. L'ultima vittima è stata la Presidente Boldrini con degli attacchi anche alla sua famiglia che erano completamente inventati. Si può regolamentare senza cadere nelle censure, anzi noi lo dobbiamo fare perché l'informazione è qualcosa di vitale per la nostra democrazia, a patto che però sia un'informazione corretta, che abbia una credibilità. Questo è un grande tema che noi abbiamo e che dobbiamo affrontare perché è urgentissimo.